Salve a tutti amici! Io sono Dimitro. Come ti permette di offendere mio giochino? There was once upon a time Dimitro. Dimitro sgossino, venti frame al secondo. Se io guardo qua va sessanta frame ma se io giro sguardo succede un problemino di frame. 8 euro una cifra onesta perché perdi tempo e non vai avanti eh? Non vuoi finire il video? Vuoi rimanere sempre qua? Se no mi dici dove andare io a tirare te ginocchiata eh? Cosa questa luce? Stai attento, stai attento. Non guardarmi in quel modo, stai attento. Io penso che 8 euro siano anche pochi per questo gioco eh te lo dico con cuore eh? Ti spacco fa... ma che faccia? Io sono un ballerino, ti piace il mio nuovo mossa? Vedi perché sei pagato che non volevi sottostare alle regole rumene. Non c'è niente ragazzoli. Stoppiamo un po' di vino. Facciamo un brindesino a niente. Mori pezzo di merda. E mi trasgossino ti fa vedere sui alberi blu. Addio brutto mondo, pieno di l'arcio ma steam. Io non voglio più vedere questi giochi. Ma busasi di sotto. Ma busasi di sotto. Ma busasi di sotto. Ma busasi. Questo è il riassunto proprio. Questo è il riassunto proprio.